E c'è tutti ragazzi bentornati su Yokey Watch Italia. Oggi siamo nel video pool di Kyuuby Z. Ovviamente non siamo da soli, con me c'è il mitico Staff con più F, ricordate, più F, con più F, più F, più F, più F. No, una F sola. No, una F sola. No, no, di più di più. Allora. E ho due F, io però ho jackpot e ne ho due. Aia, jackpot e ne ho due. Ok, perfetto. Allora, eccolo qui, il nostro mitico Kyuuby, che è molto molto snoice. Abbiamo anche l'Energymax, che non so se ce lo fa vedere. Ok, oltre a quello andremo a vedere anche la nuova mappa, che si dovrebbe essere aperta. Esatto, c'è lui come boss. Ok. Ovvio. E c'è anche questa roba qua. Questa moneta qua dovrebbe essere una moneta che se la pulli puoi trovarci la roba, cioè i contenuti di questi Yokey. Ovviamente bonus Kyuuby. Perché tanto bonus contro Kyuuby, Kyuuby ovviamente. Andiamo a vedere un attimo i bonus che ha il nostro caro amico Kyuuby. Ha bonus contro il dragone Impossible Stage. Molto bene, così potremo mettere l'autoclicker sull'Impossible Stage. Vediamo se ha anche bonus punti. Se ha bonus punti, urlo. Vediamo un po'. No, non ha bonus punti. Ha solo bonus nel suo stage e nello stage del dragone. Io pensavo che fosse appunti. Eh, così. Passiamo un po' l'audio perché non so se è troppo alto. Andiamo a vedere la nuova mappa e andiamo anche a pullare. Tu sei carico? Sei carico? Eccolo qua. Finalmente possiamo andare avanti. Dopo Stage 45, eccolo qua. Abbiamo Stage 46, eccolo qua. Kyuuby. Vi dico Kyuuby. Che in teoria non ho capito come si prende la moneta. Se la prendi battendolo, ovviamente no. Non lo so. C'è questa moneta. Ma il PC non possiamo farlo anche perché è difficile. Sì, lo prendo in un altro video off camera. Non è da shoppare la moneta, è meglio così. Forse è nelle missioni. Vediamo un po' se è nelle missioni. No. No, solo lì sono quelle giornaliere. Allora, boh, andiamo a pullare. Dai, andiamo a pullare. Qui cosa altro c'è di interessante? Ah, il suo render. Ok. Andiamo a pullare, dai. Sei carico? Ovviamente ricordiamoci di dare i soldi al vecchietto. Andiamo a dare il vecchietto, ragazzi. Il vecchietto. Voi aiutate il vecchietto che almeno è sempre... Sostiene. Eh, va sostenuto il vecchietto. 100 e zun. 100 e zun subito, proprio così, così, così ce lo facciamo, così ce lo fa trovare. Ecco, tutti gli altri già nel gruppo a batterlo, ok? Andiamo. I re-top vogliamo anche il re-top. 1.6 ormai, come al solito. Vediamo un po'. Yes. Quindi, vai, iniziamo. Prima multi. Vediamo un po'. Speriamo di non scendere sotto i 600k. Vediamo un po'. Ora esce una bella rainbow e lo troviamo. Alla prima, vai. Ok, ora, ora. Apriamo con calma, con calma. Prima le blu. Io ho sempre aperto le blu, sei tu quello che non apre mai le blu. Stiamo registrando da PC e ci sono un attimino... Non sappiamo bene come... Se l'audio si sente bene oppure no. Vediamo un po'. Sentirete anche i click del mouse, però non ci posso fare niente. Non ho sentito i click e i click. Eh, oh. Dai, dai l'oro. Lo troviamo subito alla prima, vai. Ovviamente no. Non c'è niente, è come al sangue. Ovviamente no. Ovviamente il gioco non è che ci ha fatto arrivare prima, no. No, ci pare, ci pare. Alla prima è scontatissimo. Non lo troverai mai alla prima. Vai, seconda multi. Una sola dorata. È un po' così, è un po' così il gioco. È un po' così. È un po' così. C'era con te. Cioè, io nello scorso Z l'avevo trovato in tre multi. Vero? Eh, stavolta sto pullando io, probabilmente... Oddio, ha laggato per un attimo. Troppo porta sfiga, ragazzi, per questi momenti cosa stai dicendo. Eh, oh, segreto, buono. Buono, segreto. Ok, due segreti, l'importante è, visto che hanno dovuto spendere un sacco per... Ok. Marino, terza, terza multi. Vai, terza multi, ho dovuto maxare il dragone per poter farmare nell'impossible, quindi vai. Ok, terza multi, un'altra oro. Tre oro? No, due oro, due oro. Due oro, sono due oro. Due oro, sono molto contenutisti. Andiamo un po'. Questa è già la terza multi. Siamo già a tre. Speriamo di finirla qui, perché non vorrei spendere troppo punti. Masson. Vediamo un po'. Dopo andiamo a vedere anche le statistiche del boss. Quale apriamo? Quello al centro o al quale in alto? Ma guarda sì, come... Cosa? Per me è differente. Vai, questa! Ahia, ha laggato per un attimo. Un altro segreto. Eh, va bene, va bene, però stiamo trovando segreti. Ah, comunque se avete visto, io entro in molti, lui va già... Eh, eh, non va bene così. Dai, dai, su, dai, dammi la rainbow. No, niente, niente. No, dai, va bene. Mi adorate. Eh, siamo un po'... Il gioco è un po' di manica corta oggi, eh? Si vede. Siamo già a quattro anni qui, però non mai passano a guardarmi. Però è un po' un po' mi schiccato in questo caso il gioco. Eh, un po', un po' così. Non va a gire di nuovo. Non va a gire di nuovo. Non va a gire di nuovo. Eh, la passavolta provo a fare il video da solo e vediamo se cambia qualcosa. No, scherzo. Io da solo, io mi tremmo per tirare, ragazzi. No, no, non è qui, non è qui. Facciamo la quinta, io per farvi capire. Oh, ma ora io lo voglio trovare, nel senso, eh, lo voglio trovare. Vai. Bella rainbow. Sì, rainbow. Let's go. Sì, whisper. Oh, due. Allora, calma, 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 qua due rainbow, stiamo un attimino esagerando. Allora, giuro che, allora, in una c'è comasciura e in una c'è il draghetto, te lo dico. No, io veramente. Proprio scrittatissimo, ma sicuro è così, sicuro. Il gioco è sempre così, non ha un'idea al gioco. È infame. Però c'è il rate up, quindi vediamo. Quale andiamo, quale andiamo? Quello sopra. Quello sopra? Eccolo. L'ho trovato, let's go. Let's go. Meglio, meglio. Oh, vabbè, che bello che sei. Ma quanto sei bello. Ma quanto sei bello. Facciamo uno screenshot. Eccolo qua. Quindi quante ultime foto? Cinque, sei minuti. Sì. Interessante. Guarda, qui ce n'è un altro, eh. Guarda, eh. Guarda che ne trovi due, guarda che ne trovi due. Comasciura, va bene. Comasciura. Al più uno, più uno. Comasciura, più uno, va bene. Va bene, va bene, va bene. Molto interessante. Adesso proviamo ad andare a battere QB. Allora, eccoci qua. Abbiamo maxato QB. L'abbiamo fatto in questo team molto easy, full, misteriosi. Tanto per capire la vita, eh. Livello consigliato 50. Già che c'è il livello, secondo me, non è molto forte, eh. Più che altro voglio capire se conviene farmare anzi qua. Tanto bellissima la song. Adoro. Vediamo quanto evita. Ah, ma è un'accazzata da battere. Ma è facilissimo. È facilissimo. Ora vedo che perde, esatto. A 31k. Anzi, oggi che ci sono. Usiamo un energy max di QB. Usiamo il meno uno test. Sì, per vedere un attimo. Almeno anche visto. Sono da PC, quindi sono un po' useless. Vai. Qui, guarda. Vai, vediamo un po'. Cosa fa? Ok, riordina anche i puni. Interessante. Questo modo potrebbe essere anche utile in futuro rispetto a... Bellissimo, come asciura pirata. Mamma mia, boss è difficilissimo. Assurdo, mamma mia. Nessuno ce l'ha qua. È stra difficile. Va bene. Ok, l'abbiamo battuto. Adesso vediamo un attimo. Non è stato molto difficile. Voglio vedere un attimino i punti. Quanti punti si fanno? 15 punti. Ah, quindi forse... Ah, aspetta però, aspetta. Questo era quello easy. Adesso mi sblocca quello difficile. Cos'è questo? Questo è quello difficile, molto probabilmente. Uè. Il dragone. È il dragone, sì. Perché ha l'icona quella... Eccolo. Quello difficile. Ah, sono battiti dalla moneta. Sono battiti dalla moneta. Molto, molto interessante. Poi proviamo a battere anche questo. Dai, vediamo un po'. Se lo vogliamo sbloccare, poi vedete che fail ha. No, perché l'unico bonus qua è kiubi. Ok, quindi per sbloccare questo, che è quello difficile, dovete battere l'altro. Ok. Vediamo un po' se è facile oppure no. Quindi, non è il top. Eh, lo fa... Magari qua si possono fare anche i segreti. Se si possono fare anche i segreti, se si possono fare anche i segreti, non c'è roba. Non lo so, sai. Non toglie tanto, però... Proviamo a vedere... Ho paura del contrattacco questo, però. Prova del contrattacco. Non so quanto... No, nemmeno tanto. Secondo me è fattibile. Onestamente ce ne sono stati i peggiori. I peggiori. Sì, questo qua è fattibilissimo. Ora, proviamo un attimo a fare così. Probabilmente con un energy max di kiubi l'ho shotto. Il problema è che non riesco a caricarlo. Ci è difficile, signora. Sì, non è granché, devo dire, che secondo me... Si devono impegnare un po' di più a fare i boss. Devo riuscire a caricare i kiubi, possibilmente gioco... Gioco... Gioco, kiubi, per favore. Per favore. Oh, vediamo un po' se riesco a shottarlo. Vediamo un po'. Sì, easy. Easy. Andiamo a shottare anche la moneta, che dici? Eh, va bene. Sì, ormai ci mettiamo tutto. Cioè, appunto, sì. Quindi alla fine la moneta ci può servire. Sì, ok. Attenzione, però la moneta non ve la droppa sempre. Ve la droppa solo la prima volta quando lo battete. E non so se la devo fare ancora. No. Ok, adesso cosa succede? Mi sblocchi un'altra roba ancora? Ok. Dialoghi molto interessanti. Niente, finiamo. Perfetto. Ok, ok, grazie. Va bene. Quindi questo era il video dove pulliamo QB e il video dove facciamo i due stage nuovi, che non erano difficili. Se avete QB lo stage ultra impossible lo battete easy. E niente, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, saluta Steph. Ciao. Ok. Guardatevi Steph con due F. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao. Ciao.